In maglia bianca la formazione del Magdeburgo ed è la gara di Pomerenc, altro nazionale dell'Est, dopo Sparwasser e Pomerenc, quindicesimo in vantaggio, la formazione del Magdeburgo che raddoppia dopo questa azione di Steinbach. Ventesimo, un altro gran gol di questo giocatore. Ventesimo, 2-0 per la formazione del Magdeburgo fuori casa e nel secondo tempo Pomerenc sigla il 49esimo, la doppietta personale, qui sotto misura con un tocco di esterno. 49esimo, 3-0 c'è solo il tempo per l'1-3 di Kremers al 51esimo per lo Schalke che viene eliminato. Lunga azione, poi il cross in mezzo e il tap in di Kremers, 51esimo, 1-3, finisce così.